E in questo sabato 10 agosto oggi abbiamo ricordato una data importante, lo abbiamo fatto grazie a Fra Carlo, abbiamo ricordato l'ordinazione sacerdotale di Padre Pio, abbiamo ascoltato anche dalle parole di Fra Italo Sant'Agostino. Oggi la Chiesa ricorda, celebra San Lorenzo e naturalmente auguri a tutti coloro che portano questo nome ma è anche la notte delle stelle cadenti, ecco così la notte di San Lorenzo, quindi questa sera saremo tutti quanti con il naso all'insù. Allora ho preso tempo ma lui è già prontissimo, il nostro esperto in diritto e tecnologia, l'avvocato Gabriele Franco, nonché lo ricordavo anche prima, ideatore e curatore del primo e unico festival in Italia, interamente dedicato alle fake news, fake news festival. Buongiorno avvocato Franco, benvenuto. Buongiorno, buongiorno e grazie a voi per l'invito. Allora ti ho chiamato avvocato Franco, adesso torno a chiamarti Gabriele così ecco è più facile, è un po' più come dire amichevole come chiacchierata. Sei con noi questa mattina perché per parlarci dell'entrata in vigore del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, è entrata in vigore il primo agosto quindi qualche giorno fa. Allora spiegaci di che cosa si tratta, perché è entrato in vigore questo regolamento e soprattutto che impatto avrà sulle nostre vite perché magari, non lo so, la signora Maria che ci ascolta da Messina e dice sì ma io con l'intelligenza artificiale che cosa centro? Quindi aiutaci ad entrare in questo argomento Gabriele. L'intelligenza artificiale è una tecnologia che ormai fa parte delle nostre vite, questo non c'è dubbio, la troviamo sul nostro smartphone, la troviamo quando interagiamo con società o pubbliche amministrazioni, la troviamo anche nel settore dell'informazione, abbiamo parlato di fake news e anche sempre più notizie vengono generate con l'intelligenza artificiale. E parliamo quindi di strumenti tecnologici in grado di generare contenuti, in grado di compiere attività che fino ad oggi erano attività tipicamente umane. Ecco, l'impatto di queste tecnologie e la loro grande rilevanza è in grado di portare da un lato grandi opportunità, ma anche alcuni rischi. Rischi di discriminazione, rischi di creare effetti distorsibili da realtà, pensiamo appunto alle fake news e quindi a come può una notizia creata con un computer, con un algoritmo, influenzare la percezione della nostra percezione della realtà. Ecco, per questo motivo il legislatore europeo ha deciso di creare una prima legge sull'intelligenza artificiale, dico prima perché si tratta della prima legge al mondo a regolamentare in modo armonizzato e orizzontale i sistemi di intelligenza artificiale. Quindi a partire appunto dai primi di agosto è entrata in vigore questa nuova normativa che con un sistema complesso di regole punta a incidere direttamente sulle nostre vite. Come lo fa? Lo fa intervenendo e obbligando i soggetti che a qualunque titolo operano con l'intelligenza artificiale, quindi da chi la produce a chi la utilizza, a chi la distribuisce, a rispettare una serie di regole, una serie di principi e di obblighi che mettono l'uomo al centro e che garantiscono che i cittadini che utilizzano, che sono impattati da un'intelligenza artificiale, siano tutelati da certe garanzie. E poi se vuoi facciamo qualche esempio. Ecco sì sì, facciamo qualche esempio. Poi vorrei, no, vorrei prima chiederti, quindi è necessario questo, è necessaria questa legge? Si è discusso molto anche a livello internazionale, alcuni paesi hanno deciso di non adottare una legge di questo tipo, altri paesi stanno seguendo l'esempio dell'Unione Europea, perché c'è la vecchia storia per cui a volte le leggi possono sembrare un freno all'innovazione. In realtà così non è, nel senso così auspichiamo, ma la legge europea è stata costruita in modo tale da creare, cercare di tendere a un equilibrio fra protezione dei diritti, che sono un elemento fondamentale nella cultura costituzionale europea, e dall'altro sostegno all'innovazione. Quindi nella legge stessa al suo interno ci sono una serie di misure che vogliono aiutare le aziende e i soggetti pubblici a investire sull'intelligenza artificiale, assieme a tutto il pacchetto di misure economiche che l'Unione Europea sta stanziando, proprio per far sì che l'Europa diventi anche un polo tecnologico dell'intelligenza artificiale. Ecco, torniamo agli esempi di cui parlavi prima. Allora, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale, che forse avrete letto è stato chiamato Artificial Intelligence Act o AI Act, è costruito su una piramide di rischi, nel senso che il legislatore europeo ha scelto di classificare alcune applicazioni come troppo rischiose, per essere utilizzate in Europa e quindi le avvietate. Ad esempio, questo è il caso dei sistemi di polizia predittiva, oppure è il caso, ad esempio, dell'uso di algoritmi per riconoscimento delle emozioni su luoghi di lavoro o a scuola, quindi tecniche molto invasive che possono comportare seri pericoli, appunto, per i cittadini. Altre applicazioni, invece, sono state classificate ad alto rischio, quindi comunque foriere di impattare fortemente i nostri diritti, ma con un'utilità e di conseguenza queste applicazioni sono ammesse, tuttavia, chi le utilizza e le produce dovrà rispettare molti obblighi. Facciamo un esempio, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la scrematura dei curriculum, quando, d'ora in poi, un azienda utilizzerà un algoritmo per selezionare i CV che riceve, dovrà rispettare una serie di regole, oppure l'utilizzo dell'AI per la concessione dei mutui o per la definizione delle polizze assicurative. Ecco, in tutti questi casi, chi utilizza questi sistemi da oggi in poi, o meglio, fra qualche mese in poi, perché poi c'è un piccolo distacco fra entrate in vigore e applicazione, dovrà rispettare tutta una serie di regole, mettere in campo obblighi, requisiti e riempimenti. E poi ci sono anche delle norme che intaccano sulla trasparenza, e cioè sono una serie di regole che riguardano il modo in cui noi cittadini dobbiamo essere messi a conoscenza del fatto che davanti a noi abbiamo un sistema di intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Che quando d'ora in poi interagiremo con un chatbot, immaginiamo la possibilità di andare sul sito di un'amministrazione pubblica o di un soggetto privato e chiedere informazioni tramite una conversazione che in realtà è tenuta da un algoritmo, ecco, noi cittadini dovremmo essere informati del fatto che davanti a noi non abbiamo un essere umano, ma in realtà abbiamo un algoritmo. Allo stesso modo, di come se verranno generate delle notizie attraverso i deepfake, quindi delle immagini che sembrano vere ma che in realtà sono create con l'intelligenza artificiale, ecco, dovremmo essere informati attraverso un'indicazione che queste immagini, che queste informazioni sono state create tramite l'intelligenza artificiale e non prese dalla realtà dei fatti. E quello delle immagini è un argomento interessante, anche perché un'immagine è molto forte rispetto magari, sto pensando ad un post, a volte il post è molto lungo, tante persone neanche lo leggono su Facebook, e invece la foto, l'immagine è più impattante, quindi magari danno più peso a quell'immagine anziché a quello che è stato scritto. Quindi in quel caso bisogna specificare che quell'immagine è stata creata con l'intelligenza artificiale. Esatto, le immagini hanno una portata di efficacia molto più forte sull'essere umano, anche poi facilitato appunto dai mezzi di comunicazione di massa, i social network, l'informazione. Proprio per questo motivo si è deciso di prevedere questo obbligo, si dice di etichettatura, cioè il contenuto deve essere etichettato con l'indicazione stato generato dall'intelligenza artificiale. In Italia al momento si sta discutendo anche un'altra legge sull'intelligenza artificiale che prevede anche degli obblighi in questo senso, in particolare il meccanismo potrebbe essere un po' paragonato a quello del bollino che noi vediamo in televisione quando un film è per tutti, per spettatori accompagnati o solo per adulti, e si prevede un bollino che lo specifica. Ecco, al momento si sta discutendo in Italia della possibilità di bollinare anche i contenuti televisivi e radiofonici con un bollino che specifici la loro natura di sistemi creati, di contenuti creati con l'intelligenza artificiale. Ecco, forse ci sono alcuni momenti della giornata, perdonami questa divagazione, caro Gabriele, come oggi, questo sabato di agosto in cui, non so se è d'accordo anche il collega Leonardo Fania, avremmo voluto qualcuno al posto nostro creato artificialmente in studio. Non so se arriveremo poi a questi risultati, a questi obiettivi, però a volte ecco, che dici? Non hai il microfono? Va bene Leonardo, poi ti darò parola, così, per scherzare, insomma, come dire, stiamo appunto parlando di questo argomento molto molto importante, lo stiamo facendo davvero grazie anche al nostro esperto, l'avvocato Gabriele Franco. Ti ho presentato anche come ideatore e curatore del primo e unico festival in Italia, interamente dedicato alle fake news. Che cosa c'è in cantiere? In cantiere c'è una terza edizione che si svolgerà, lo possiamo dire, in anteprima a novembre, a Udine, e in tutto il studio di Venezia Giulia nei mesi precedenti. Torneremo con lo stesso spirito e lo stesso obiettivo di passata edizione, quindi cercare di farci promotori di una cultura informativa e di portare alla cittadinanza, ai giovani, alle imprese, ai professionisti, strumenti per sviluppare un pensiero critico e quindi cercare di affrontare il tema dell'informazione e la disinformazione con nuovi strumenti diciamo che tengano il passo con la complessità della contemporaneità e tra i vari temi da trattare naturalmente tratteremo anche quello dell'intelligenza artificiale con ospiti di primo ordine, di livello nazionale, e quindi vi aspettiamo a Udine e in tutto il studio di Venezia Giulia, non possiamo ancora dire le date, ma teneteli liberi sostanzialmente nel mese di novembre. Perfetto, allora sicuramente torneremo a collegarci anche qualche giorno prima delle date appunto del Fake News Festival per tornare a parlarne con Gabriele Franco. È davvero un piacere averti avuto con noi quest'oggi, speriamo di vederci presto, non so se a Udine, ma potrebbe essere anche a San Giovanni Rotondo, ma come direbbero utilizzando un termine, non spoileriamo, non diamo anticipazioni, grazie al nostro avvocato ed esperto di tecnologia e diritto Gabriele Franco per essere stato con noi in questo sabato di agosto. Grazie ancora, buone vacanze se non le hai ancora fatte. Grazie, grazie anche a voi. Ciao, ciao Gabriele.